Domani alle 17.30 in via Federico Ricco a Nocele Inferiore sarà inaugurato lo sportello di ascolto chiedere aiuto, l'iniziativa è dell'associazione Crescere Insieme. Ieri pomeriggio nel corso di una conferenza stampa i promotori dello sportello di ascolto hanno presentato il progetto. Lo sportello è in servizio ideato per ascoltare, accogliere e sostenere coloro che vi si rivolgono è aperto a tutta la cittadinanza e vuole essere uno spazio in cui ognuno può condividere gli aspetti problematici e complessi legati alla sua vita. In un mondo come quello di oggi hanno spiegato in cui vengono messe a dura prova le sicurezze, la stima e la realizzazione di sé lo sportello realizza una relazione di aiuto e di ascolto che grazie alla guida e all'orientamento di un esperto consente una riflessione attiva e costruttiva sui propri vissuti e di trovare nelle risorse personali di ciascuno la via di uscita o la soluzione più adeguata al proprio problema.